Teglio Archivi ha un settembre da incorniciare, quattro weekend da tutto esaurito per il Pizzocchero d'Oro, la prima delle quattro iniziative culinarie che compongono il programma di Sapori d'Autunno. Complice un tempo splendido e un calendario di manifestazioni che esaltano insieme alle prelibatezze gastronomiche e anche le bellezze storico-artistiche della località, la capitale storica della Valtellina ha saputo attrarre un gran numero di visitatori e amanti della buona tavola. Sì, in effetti il Pizzocchero d'Oro non poteva chiudersi in modo migliore, oggi la bellissima giornata ci ha aiutato, tutti i ristoranti hanno lavorato alla grande, ci sono diverse manifestazioni in piazza che rallegano l'atmosfera vacanziera di nostri affezionati turisti, quindi adesso abbiamo terminato con il Pizzocchero d'Oro, è andato benissimo, abbiamo sempre fatto il pianone e adesso ci apprestiamo a cominciare con i sapori d'autunno, direi propri, dagli prossimi weekend per tre weekend avremo i weekend dei funghi, poi seguiranno altri tre weekend con la selvaggina e per finire tre weekend con i sapori autunnali. Valore aggiunto della rassegna le manifestazioni culturali come i giovani artisti in piazza e i canti della tradizione interpretati dal corovetta di Ponte in Valtellina nel giardino di Palazzo Piatti Regenzani. Ponte in Valtellina Grazie a tutti i giorni